Un po' a deposito giudiziario, ecco che sono sequestrato, la situazione è sempre la stessa, il comune non rimuove niente, nonostante la sua ordinanza, le gomme pneumatici abbandonati aumentano, così magari un giorno ce li troviamo tutti bruciati e ce li respiriamo. Guarda che stava tolto un chiodo, tutto ancora così, fantastico no? Capua 16 luglio 2020